La pioggia fa subito sentire i suoi effetti. Appare una frana costringe a chiudere la strada per Martorasco. Nella frazione abitano circa 15 persone. Nel frattempo sulle Orobie Bergamasche è confermata l'allerta arancione. Una serata dedicata a borse di studio e benemerenze. Ieri a Rogno, oltre 60 tra bambini e ragazzi, si sono visti riconoscere l'impegno a scuola. Premi anche per sportivi e associazioni. A Vertovalle, signore del circolo del giovedì, impegnate per un nuovo progetto di solidarietà. Lavori con la lana per i bambini prematuri della città di Gulu, in Uganda. L'iniziativa si può sostenere donando gomitoli. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli. Uno smottamento ha costretto il comune di Parre a chiudere la strada che porta alla frazione Martorasco. La località al momento si può raggiungere solo a piedi, in attesa che vengano effettuati i lavori per la messa in sicurezza. Siamo andati a vedere. Ancora una frana nel territorio di Parre, questa volta lungo la strada che porta alla frazione Martorasco. Cos'è successo? Venerdì siamo stati allertati dai vigili del fuoco che a loro volta sono stati chiamati dai cittadini residenti nella nostra frazione di Martorasco. Un masso di un'importanza notevole è franato lungo la strada che porta al paese di Martorasco, la frazione di Martorasco. È un bel macigno. Subito con i vigili del fuoco si è provveduta una prima pulizia del luogo per verificare appunto la situazione. È stata chiusa momentaneamente la strada e questa mattina invece insieme al mio ufficio tecnico, al geologo Ferracin, all'Oster e alla protezione civile abbiamo fatto un sopralluogo per capire come intervenire e subito ci siamo andati da fare per partire con la procedura di somma urgenza. Quindi già dal lunedì il masso verrà spaccato e portato via e in seguito, in una quindicina di giorni, si metterà anche in sicurezza il fronte per garantire appunto un transito in sicurezza. Quante persone abitano nella frazione? Allora residenti sono circa 14 però poi so che qualcuno ha affittato anche delle case quindi una ventina di persone sono presenti nella nostra frazione. Sin da subito si sono dimostrati collaborativi, hanno capito l'emergenza e abbiamo messo a disposizione tutto quello che potevamo quindi sostanzialmente un passaggio pedonale in sicurezza e nel caso invece ci fossero delle emergenze abbiamo lasciato il nostro numero di telefoni per cercare di lasciarli tranquilli e se dovessero avere delle necessità appunto di poterci contattare e risolvere anche questo problema. Quindi la strada resterà chiusa alle auto fino alla completa messa in sicurezza? Sì assolutamente sì, attualmente la strada non è percorribile ma anche una volta demolito il masso riteniamo opportuno che venga messo in sicurezza anche il fronte proprio per dare la sicurezza generale a chi transita su questa via che conduce alla nostra frazione. Ieri i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Peia per un masso finito in un giardino privato fortunatamente senza conseguenze e a Bianzano per un'auto danneggiata dalla caduta di alcuni sassi. La pioggia purtroppo ha fatto subito sentire i propri effetti sulle Orobie Bergamasche resta l'allerta arancione per maltempo. La protezione civile della Lombardia ha confermato il livello di criticità moderata per rischio idrogeologico già emesso ieri confermata sul nostro territorio anche l'allerta gialla per rischio idraulico. Cambiamo argomento dopo la firma lo scorso 23 novembre dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro tra organizzazioni sindacali e associazione bancaria italiana. Le lavoratrici e i lavoratori di Bergamo sono stati chiamati a pronunciarsi sull'accordo che prevede un aumento a livello medio di 435 euro per lavoratrici e lavoratori del settore circa 270 mila. Si tratta di un incremento del 15 per cento della retribuzione a regime. I lavoratori interessati nella provincia di Bergamo sono oltre 3 mila. I lavoratori hanno approvato l'unanimità all'ipotesi di raccordo di rinnovo del contratto collettivo dei bancari. Finora le assemblee stanno andando molto bene e i lavoratori hanno accolto favorevolmente quelle che sono sia le novità di carattere normativo che l'importante incremento retributivo che il contratto garantisce. Un incremento che è determinato sicuramente dalla perdita del potere d'acquisto dei salari a causa dell'inflazione ma anche dalla grande produttività e redditività che il sistema ha garantito e che noi vogliamo che in qualche modo venga ridistribuita anche a chi di fatto la produce. Tra le novità di carattere normativo viene per la prima volta nel nostro paese disciplinata e regolata da un contratto la possibilità di introdurre forme partecipative cioè il coinvolgimento diretto dei lavoratori nell'ambito delle scelte dei processi produttivi aziendali. Questo istituto dovrà essere recepito e normato dall'accordo aziendale di gruppo quindi non è direttamente applicabile ma è sicuramente una novità che si va a inserire in un contesto anche nazionale nel quale la proposta di progetto di legge presentato proprio da Cisla sulla partecipazione è oggetto di confronto nell'ambito della Camera dei Deputati e quindi presumiamo che possa a breve anche trovare un quadro regolatore a livello nazionale. Una serata dedicata a borse di studio e benemerenze. Ieri a Rogno oltre 60 tra bambini e ragazzi si sono visti riconoscere l'impegno a scuola ma l'amministrazione comunale ha voluto anche dimostrare la propria riconoscenza a sportivi e associazioni. Una serata importante a Rogno, una serata dedicata ai riconoscimenti. Qual è il significato di questo momento che avete vissuto insieme al Paese? È un momento per dire grazie a chi si impegna veramente tutto l'anno per la nostra comunità a partire dai tre gruppi pluggers che abbiamo premiato questa sera per passare a due eccellenze dello sport perciò la Bocciofila Junior che quest'anno è diventata vice campione italiano e Andrea Surini che è un nostro giovanissimo campione delle due ruote che nell'enduro negli ultimi anni sta veramente arrivando sempre ai primi posti nei titoli regionali e italiani. E poi abbiamo dato dei riconoscimenti a delle associazioni che raggruppano una fetta importante della nostra cittadinanza perciò insieme a Razom che si occupa di Ucraina, perciò sia di ucraini residenti in zona profughi provenienti dalla guerra oppure anche di progetti mirati all'Ucraina in zone di guerra dopo Anur che è l'associazione che raggruppa molti musulmani e abitanti provenienti dal Nord Africa e l'Ijan Italia che è l'associazione che raggruppa gli abitanti nelle nostre zone provenienti dalla Bosnia e Herzegovina perciò delle realtà che raggruppano il 14% dei cittadini di Ronio e dell'Alto Sebino delle realtà importanti che hanno sul nostro territorio tante iniziative e che sostengono l'amministrazione comunale sia nei progetti di solidarietà verso le famiglie fragili sia anche nel controllo del territorio e dei cittadini abbiamo avuto l'onore questa sera di aver avuto degli ospiti eccellenti perciò un euro parlamentare Marco Zanni, Rebecca Frassini dalla Camera dei Deputati Roberto Anelli dalla Regione Lombardia, Fabio Ferrari dal Consiglio della Provincia di Bergamo e in più il console di Bosnia e Zegovina di Milano in Italia perciò veramente un parterre importante il Preside Nico Rinaldi oltre ai consiglieri comunali e tante altre persone che hanno dato lustro questa serata hanno dato importanza ai nostri giovani che hanno avuto modo di vedere come appunto rifacendoci alle parole di Pertini, del Presidente Pertini hanno avuto modo di vedere degli esempi e non solo dei sermoni perciò delle persone che dalla provincia di Bergamo rappresentano la nostra comunità in tutto il mondo veramente e per i nostri giovani sono da stimolo per il loro futuro, per la loro crescita sia nel mondo del lavoro e chissà magari un domani anche nel mondo politico Una serata dedicata anche alle borse di studio avete voluto riconoscere l'impegno dei vostri ragazzi? Ebbene sì, Ronio tutti gli anni è fortemente vicina ai nostri studenti alle famiglie e a tutto quello che è il corpo docenti quest'anno abbiamo premiato più di 60 ragazzi con un investimento di 13.500 euro distribuiti dalla prima elementare fino alla magistrale il Comune di Ronio è sempre molto attento a questo tema proprio per l'investimento sul futuro La serata è stata allietata anche dalle note dell'Associazione Culturale Valle Camonica grazie alla nostra Ilaria Giorgi che è un'eccellenza della musica del nostro Comune e ha reso veramente estremamente piacevole il tutto Anembro prosegue a gonfie vele il progetto Azimut dedicato ai giovani per loro il bar Acli è diventato un punto di riferimento per orientarsi verso il futuro La sera lo stabile in centro prende vita grazie all'aula studio frequentata dai ragazzi Siamo a Anembro un progetto Azimut Caffè dedicato ai giovani presentato pochi mesi fa c'è uno spazio dedicato a loro nel bar Acli di Nembro che ha riaperto per l'occasione di cosa si tratta innanzitutto di questo progetto Noi siamo un punto in forma giovani che ha aperto appunto da poco nei spazi del bar delle Acli in collaborazione sia con il Comune di Nembro sia con la cooperativa Acli di Nembro sia anche con la cooperativa di Bergamo delle Acli con la San Martino che è un'altra cooperativa e con Rapso Idea siamo un punto che vuole un po' accogliere le richieste dei giovani e cercare di orientarli e riorientarli sia nella scelta scolastica sia anche nella scelta lavorativa quindi diamo supporto sia per la scelta delle scuole superiori sia anche per la scrittura del curriculum e la ricerca attiva del lavoro questi sono i nostri principali lavori e in tutto questo cerchiamo anche di rispondere a delle esigenze del territorio cercando di offrire attraverso degli interventi o anche attraverso delle iniziative delle risposte concrete ai bisogni che i ragazzi ci portano bisogni che state cercando di capire anche quali sono avete trovato anche un modo per coinvolgere questi ragazzi sì, nel nostro progetto iniziale il nostro progetto è iniziato appunto con una sorta di mappatura e a riascolto dei bisogni a partire da un questionario abbiamo somministrato un questionario a tutti i ragazzi dai 16 fino ai 35 anni risiedenti nel suolo di Nembro e abbiamo in realtà riscosso un grandissimo successo nelle risposte di questi questionari circa il 2% della popolazione nembresa ha risposto ed è un buon dato per noi e ora li stiamo analizzando cercando appunto di offrire sempre più delle risposte concrete alle loro necessità ecco bisogno di uno studente è anche quello di studiare anche alla sera perché no? e voi avete dato un'aula? sì, noi abbiamo da poco in realtà aperto questa aula studio che si trova al piano superiore di questo bar negli spazi della cooperativa ACLI di Nembro è aperto tre volte alla settimana il martedì e il mercoledì dalle 18 fino alle 21 22 a richiesta e la domenica pomeriggio dalle 15 fino alle 19 come sta andando il bar il progetto come sta andando la presenza in aula studio? in realtà la presenza in aula studio è molto positiva ci aspettavamo un flusso ma non così abbondante così come anche il bar in realtà la mattina è più frequentato da delle persone anziane che dopo le messe hanno ritrovato questo bar come loro punto di incontro il verso sera è orario aperitivo i giovani riempiono le stanze quindi direi che il bar sta andando molto bene così come il progetto perché in realtà ad oggi ed è aperto effettivamente da due mesi abbiamo già ricevuto e insomma supportato almeno cinque persone quindi siamo soddisfatti di come sta andando prossimi obiettivi prossimi appuntamenti? sicuramente avremo un corso di educazione finanziaria indirizzato ai giovani dopodiché stiamo elaborando due interventi con le due associazioni del territorio nembrese che sono Potatrec e Migliori con un evento culturale un evento più targettizzato per i giovani al MUPIC ma questo è tutto da scoprire più avanti domani 11 febbraio ricorre la giornata europea del numero unico di emergenza europeo NUE 112 il 112 è il numero da comporre in tutti i casi di emergenza per la tempestiva attivazione del soccorso sanitario delle forze di pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco in Lombardia il servizio numero unico 112 è gestito dall'agenzia regionale emergenza urgenza è stato attivato nel 2010 con una prima sperimentazione avarese e progressivamente esteso a tutto il territorio regionale attualmente il servizio viene gestito da tre centrali uniche di risposta situate a Varese Brescia e Milano che garantiscono un'unica prima risposta a tutte le chiamate di soccorso effettuate in Lombardia le telefonate di emergenza confluiscono alle centrali di risposta indipendentemente dal numero di soccorso composto dal chiamante 112 113 115 o 118 gli operatori delle tre centrali dopo aver localizzato il chiamante e individuato la tipologia di soccorso richiesto inoltre hanno le telefonate alla centrale operativa dell'ente competente per l'emergenza in atto soccorso sanitario forze di pubblica sicurezza e vigili del fuoco nel 2023 in Lombardia le centrali di risposta hanno gestito oltre 5 milioni e mezzo di chiamate con un filtro di circa il 50% rispetto alle chiamate improprie non di emergenza cambiamo argomento a Vertova ancora una volta protagoniste le signore del circolo del giovedì donne e sogni di impresa che si ritrovano nell'aula sociale questa volta i loro lavori serviranno per i bambini prematuri della città di Gulu in Uganda scopriamone di più e sentiamo anche come è possibile sostenere il progetto l'iniziativa che abbiamo deciso di intraprendere è quella di confezionare delle copertine dei cappellini per bambini e delle babbuccine aderendo al progetto Intrecci di vita che offre questo materiale ai bambini diciamo di una città di Gulu in Uganda e sono bambini prevaturi che non hanno incubatrici quindi non avendo incubatrici le copertine e altro materiale come citavo prima rappresentano l'unica protezione dell'ipotermia per bambini di pochi etti ok ora il lungo filo di lana che ci unisce all'Uganda prevede la ricerca di sostenitori e sostenitrici disposti a donarci gomitoli di lana più gomitoli di lana raccoglieremo più copertine cuffiette babbuccette noi faremo e le realizzeremo la raccolta dei gomitoli avviene presso l'aula digitale il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30 ecco devo dire che questo è un progetto che comincia e noi sicuramente lo porteremo avanti perché non ha un limite temporale diciamo che finché l'associazione non ci dice ok potete smettere di fare le copertine noi andremo avanti determinante direi nella costruzione sia delle relazioni che d'apertura di questo gruppo donne sogni d'impresa determinante nello sviluppo del nostro circolo è stato l'aver incontrato la disponibilità e il sostegno dell'amministrazione comunale di Vertova che ci ha aiutato a farci conoscere un grazie particolare direi che va dato all'assessora Cristina Bonfanti che ha creduto in noi e ha creduto nell'aula sociale e digitale sicuramente questo circolo donne e sogni d'impresa rappresenta una scommessa anche di futuro quindi da un lato concentrarsi su questa attività concreta di ogni giovedì con ferri da maglia e gomitoli di lana ma anche la convinzione appunto che c'è una sorta di staffetta tra generazioni che vogliamo fare per coinvolgere anche donne più giovani o comunque persone più giovani che abbiano interesse a sviluppare una propria attività anche sulla base di questi saperi e non ce lo nascondiamo era il nostro obiettivo anche iniziare percorsi di impresa per cui una prima iniziativa ufficiale che faremo diciamo probabilmente già al mese di marzo a metà di marzo sarà proprio un incontro pubblico presso l'auditorium testori del convento qui a Vertova in cui metteremo attorno a un tavolo una serie di figure femminili che porteranno la loro testimonianza appunto sui sogni di impresa rimasti nel cassetto in un caso e l'altra invece possibili sogni che anche diciamo il mondo delle associazioni di categoria potrebbe sostenere per giovani donne che volessero cominciare un'attività di impresa in tanti all'inizio del novecento lasciarono Ardesio per andare a lavorare in Francia soprattutto come boscaioli rimane il legame con la comunità d'origine nelle generazioni successive se ne ha avuto un esempio anche questa mattina oggi ad Ardesio un ospite speciale dalla Francia raccontiamo come è nata questa mattinata questo incontro si oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare qui nella sala consigliare Stéphane Pradal Stéphane è un figlio di un emigrante ardesiano in Francia la mamma è Plodari di cognome quindi davvero è uno dei cognomi diciamo che rappresentano Ardesio e quando lo scorso maggio sua mamma e insieme ad altri familiari arrivarono ad Ardesio avevano con sé dei documenti questi documenti poi sono stati inseriti nella seconda edizione del libro Ricordi oggi Stéphane è voluto venire ad Ardesio perché il libro è stato presentato lo scorso dicembre quindi i documenti che raccontano la storia di questa emigrazione e della sua famiglia sono all'interno di questo libro quindi Stéphane è voluto venire ad Ardesio a ritirare qualche coppia del libro e giustamente abbiamo pensato di invitarli in sala consigliare per un momento importante anche di scambio di questa testimonianza molto importante perché come già sappiamo ad Ardesio che abbiamo avuto tanti emigrati che andavano in Francia a fare i boscaioli proprio anche suo nonno era un boscaiolo ardesiano emigrato in Francia quindi davvero per noi questo è molto importante e Stéphane ha voluto portare questa mattina dei documenti inerenti il nonno Andrea Plodari Andrea Plodari per dirla all'italiana e ha portato addirittura anche la valigia che il nonno aveva con sé quando è stato poi deportato durante la seconda guerra mondiale nei lager nazisti è stato prigioniero cinque anni in Germania e poi abbiamo anche dei documenti che ne testimoniano il ritorno in Francia nel 1945 ha voluto regalarci anche un un volumetto che racconta di come lo Stato italiano un volumetto dava consegnava a chi voleva emigrare in Francia quindi con scritto delle piccole nozioni per imparare il francese questo piccolo volumetto lo costruiremo con grande attenzione presso il nostro museo nella sezione ovviamente dei boscaioli dove all'interno si parla dell'emigrazione ardesiana in Francia per fare questo lavoro che cosa ha significato questa mattinata a Dardeseo la prima volta appunto che viene qui a vedere il paese del nonno è molto emigrato è molto touchante è effettivamente la prima volta mi permette di comprare d'où viene d'où viene tutta la famiglia e poi è soprattutto un devoir di memoria quindi è stato molto toccante ripete e dice comunque che è stato molto contento di essere venuto per la prima volta è stato è anche un dovere di memoria è stato un dovere di memoria siamo in conclusione i programmi di Antenna 2 questa sera alle 20 e 5 caccia ed intorni alle 21 e 10 il Rotocalco alle 21 e 45 Manenobiscum alle 22 e 5 Salus TV alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 e 15 Pianeta Salute 2.0 seguito alle 23 e 35 da Pianeta Salute TG a mezzanotte 10 Work in Progress rubrica dedicata al mondo del lavoro a mezzanotte e mezza alla terza edizione del telegiornale l'Almanacco domani e domenica 11 febbraio il sole sorge alle 7 e 24 e tramonta alle 17 e 44 la luna è nuova sorge alle 8 e 35 tramonta alle 19 e 47 la chiesa ricorta nostra signora di Lourdes è tutto anche per questa edizione vi ricordo dopo il telegiornale l'appuntamento con le previsioni del tempo per i prossimi giorni a cura di Matteo La Cavalla grazie per averci seguito buona serata e buona domenica e buona domenica